Il Consiglio dei Ministri nel decreto legge approvato il 31 marzo 2021 prevede l'obbligo generalizzato di vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli operatori del mondo sanitario. Quindi obbligo vaccinale non solo per il personale medico ma anche per infermieri, operatori del RSA e lavoratori delle farmacie. In caso di rifiuto è prevista l'assegnazione ad altre mansioni che non implichino un pericolo di diffusione del virus, anche inferiori. Ma se la variazione delle mansioni non è possibile, il decreto prevede la sospensione senza diritto alla retribuzione. Una decisione, quella dell'obbligo alla vaccinazione su cui il direttore generale dell'ASRE di Terra, un Maurizio Giosia, si è detto fortemente favorevole. Si aspettava questa situazione perché non è possibile che personale sanitario, medico e soprattutto medici e infermieri che fanno la loro professione per l'aiuto delle persone malate dopo non si vaccinano e questo può portare anche una conseguenza sia a loro stessi che devono essere preposti alla cura dei malati che ai malati stessi, soprattutto i più fragili. ci siamo messi subito in modo, adesso la stiamo analizzando bene, vedendo tutti gli aspetti e le conseguenze che questa norma può comportare o che il sanitario venga adibito ad un'altra mansione oppure la sospensione. Certo fatto sta che noi non è che dobbiamo prendere i medici per poter mettere a fare gli scribacchini, il medico è chiamato per fare il medico. O lavora in ospedale e è tutto in regola con la vaccinazione oppure io mi cercherò, ma adesso ne parlerò anche con i miei collaboratori, di utilizzare l'estrema razio che è quella della sospensione. Ce ne sono tanti nell'asle di Terra? Per fortuna non sono tanti, prima era difficoltoso avere i nomi per problemi di privacy, adesso con la normativa è molto più semplice, adesso io richiederò gli elenchi perché tanti non sono potuti accendere, non perché non hanno voluto ma perché chi è in gravidanza oppure chi ha avuto il Covid o altre patologie per cui non è possibile vaccinarsi, in quel caso la tolleranza è possibile, ma coloro che invece si ostentano a farlo, lì interverremo con il rimedio più incisivo verso il sanitario. Sulla questione dell'ospedale di Sant'Omero si è registrato un caso di positività all'interno di un reparto che nel momento è stato chiuso per questioni di sicurezza. Sì, ma nella situazione tutti i tamponi fatti agli attivazioni sono negativi, è circoscritta la situazione, adesso la stiamo attenzionando con la massima attenzione, purtroppo sono quelle situazioni che possono succedere, però la cosa importante è che si riesca a isolarlo e a far sì che non porta pregiudizio per le altre attività ospedaliere.